Continuano i controlli Green Pass delle forze di polizia sul territorio nisseno come da piano della prefettura in base a quanto disposto dal decreto festività. Sono 3.580 le persone controllate nell'ultima settimana, 10 le sanzioni elevate per irregolarità della certificazione verde. Invece sono 431 tra gli esercizi pubblici le attività commerciali controllate e sede quali sanzionati. L'azione sinergica del controllo serve a garantire un'efficaciazione di contenimento e prevenzione del contagio e proseguirà anche nelle prossime settimane. Da domani, 1 febbraio, cambieranno le regole anche per Green Pass e non vaccinati. Il certificato verde durerà sei mesi anziché nove e servirà obbligatoriamente per entrare nei principali negozi e attività. Obbligatorio per tutti gli over 50 essere in regola con il ciclo vaccinale per non incappare nelle sanzioni previste dalle norme.